ciao a tutti bentornati in un nuovo video oggi domenica 17 maggio siamo nel parco nazionale delle foreste casentinesi nel comune di premio il cuore e oggi faremo la salita al monte tiravento però anziché farla dal paese di premio il cuore quindi da ridolla che un po la salita classica la faremo dall'altro versante quindi stiamo salendo da montalto stanotte è piovuto abbastanza diversamente da quanto successo in pianura ciò qui è un po' scivoloso però attenzione si fa più che altro sentiero essendo un po' ostruito ci stiamo completamente annegando i nostri vestiti però ci asciugheremo durante il crinale primo rudere della giornata il castellare un po' Grazie a tutti. Siamo arrivati alla Torre di Montalto che adesso andremo a vedere. Guardate questo paesaggio quasi lunare. Grazie a tutti. Una fatica bestiale perché c'è un gran umido oggi. Ieri è piovuto, poi oggi intanto salda fuori un po' di sole, quindi sulla Marna è un casino. Siamo arrivati. Musica 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 Adesso lasciamo il monte Tiravento, ci vediamo le indicazioni del cai e cominciamo la parte del ritorno del nostro giro. Musica Adesso per fortuna ci siamo immersi nel bosco perché stava cominciando ad essere veramente caldo. Musica E la prossima meta è la vetta del monte Rotondo. Questo è il bivio per Primo il cuore e questo invece è il 313 al quale siamo venuti. Ma invece proseguiamo dritto, dovrebbe essere 325 infatti. C'è un cartello qua che è il cuore 1 ora e 15. Musica 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 Ho fatto un po' di fango stanotte? Musica Allora qui siamo all'ennesimo bivio, lasciamo 325 che scende a Primo il cuore mentre noi prendiamo di qua e cominciamo a chiudere il nostro amore. Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.